Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo secondo e ultimo episodio di Trollfish Quest Video Games che avevo già portato come ho visto e grazie per avermi supportato su quel video lì che davvero non mi sarei mai aspettato tutta quella visual, grazie continuiamo, allora interessante, siamo legati a una sedia e abbiamo tre sirine che fluttono nell'aria e una Trollfish che brilla sullo schermo la tattica è ovviamente per amertarsi a caso così ha funzionato? non so se ha funzionato ah si ha funzionato comunque quello era un virus da come ho visto qua invece lascerò dai ho appena fatto un gameplay non ho voglia di... vabbè cesso cosa avrà mai? no, non funziona nulla il canone è taroco il... quello con la clava non fa nulla il cesso... niente e c'è anche battuti comunque quello più ispirante di tutti è il cesso mettiamolo qui che schifo ha funzionato bello sì, bello e brutto allo stesso tempo ma va bene questo invece cos'è? cos'è? le carte ma io provo a fare così perché li ho sputato sulla miccia? adesso ho tempo infinito guarda che faccia non se l'aspettava cos'è? cos'è che... tutto secato non si vede nulla che brutta cosa che brutta cosa cos'è sto? buuuu si è sgonfiato come una cacca qua invece c'è una c'è tipo una valvola che sai questa valvola? buu sappiamo ciò che l'interno è attivo boh tre punti di schermo attivi non so cosa voglio dire comunque si ok va giù come classico e dopo torna su con tutta la sì la fogna attaccata si è portato dietro la fogna lui ah il gioco della gallina dove devi saltare il traffico e aspettare che ti investino o me sì non devi farti investire almeno tipo ah si è fermato il tizio si è fermato bravo abbiamo salvato la macchina ecco perché nessuno si fermava mai col gallo prossimo livello ecco half life 3 non doveva mancare assolutamente ah ma andiamo avanti il caricamento errore che bastardo ma saperemo qua invece che succede ah mando avanti gli anni e il caricamento cavolo quanto è lento il caricamento ok siamo arrivati a dopo cento anni vediamo questo è half life 3 bello grazie Gabe grazie ecco ah è finito il gioco vabbè peccato vabbè ragazzi avete visto come è il gioco è durato anche troppo sinceramente due episodi per questo giochettino così sono un po' tantini come vedete qua sotto ci sono altri due giochi del troll face quest che probabilmente poterò ma per essere sicuro ditemi nei commenti se volete che ve lo porti davvero quindi ci vediamo nei prossimi episodi di qualsiasi cosa sia e ciao a tutti